movimento della pittura americana in cui i soggetti urbani specialmente industriali venivano descritti con una tecnica molto levigata e precisa creando forme chiare definite a volte quasi cubiste anche i termini realisti cubisti immacolati e sterilisti sono stati riferiti ai pittori precisionisti non furono un gruppo formale ma esposero spesso insieme tra le figure di punta ci furono demut o kifi e schiller nella pittura precisionista la luce è di solito chiara e brillante anche se george out fu meglio conosciuto per le sue scene notturne e le forme sono spesso scelte per il loro interesse geometrico questo movimento ebbe origine nel 1915 circa e fiorì nel periodo tra le due guerre mondiali particolarmente negli anni 20 del ventesimo secolo il precisionismo si sviluppò negli stati uniti la presenza umana è esclusa dalle opere precisioniste e non c'è convento sociale piuttosto lo scenario industriale tecnologico americano viene dotato di un'aura di grandiosità epica il grado di influenza cubista variava molto alcuni dipinti di schiller seguono uno stile realistico quasi fotografico mentre altre opere sono semi astratte il precisionismo ebbe un'importante influenza sia sull'immaginario che sulla tecnica del realismo magico americano e della pop art se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando iscriviti al canale Wella iscriviti al canale guardate 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 guardate